L'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato un avviso per finanziare il reddito di libertà, un sostegno economico destinato alle donne vittime di violenza e in condizioni di povertà per aiutarle a raggiungere indipendenza economica e autonomia. I comuni in collaborazione con i centri antiviolenza possono richiedere un contributo fino a 10.000 euro annui per ciascuna donna, il budget totale di 236.000 euro e le domande devono essere presentate tra il 1 e il 31 ottobre tramite posta certificata.